Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, buon anno! Mi scusi? Pensava di metterci molto? Cosa? Per caso volete voi questa pizza? A questo punto presentiamoci. Il posto più popolare per i suicidi nella notte più popolare per i suicidi. Avrei dovuto immaginare che avrei trovato la fila. Ok, facciamo un accordo. Nessuno di noi si butta prima di San Valentino. È assurdo, ma mettiamolo nero su bianco. Fermi tutti, stiamo firmando dietro al tuo biglietto di addio. Bella carta, vero? Hai avvertito tu la stampa? No! Siamo rimasti tutti intrigati dalla storia dei Fantastici Quattro del Grattacielo. Che ne dite di rendere la nostra storia un po' più fantasiosa? Eravamo pronti a saltare. Lo descriverei come è apparso un angelo. E somigliava a Matt Damon. Matt Damon? Chi è Matt Damon? Fatemi indovinare. Siete amanti, vero? Cosa? Certo. Non si vede? Quattro estranei che si incontrano in questo modo non può essere un caso. Noi ormai siamo una squadra. Che figo, eh? Comincia a essere davvero troppo. Questo è mio padre. Cercherà di dire qualcosa di carino. Mi dispiace molto per suo figlio. Uno dei suoi migliori tentativi. Le hanno mai detto che lei è un idiota? Sono un politico. Mi dicono solo questo. E volevo solo sapere se stavi bene. Ma vuoi farti ammazzare? Oddio. Ci abbiamo provato e niente. Non è cambiato niente. Tutto è cambiato. Questo non è te. Avevo chiesto il tè. Ho pagato io e non mi piace l'odore del tè. Lei perché non si suicida con una figlia così? Non ho tempo.